Chi è Alessandra, la corteggiatrice di Daffrea Uomini e Donne? Alessandra, 28 anni originaria di Milano, è una delle corteggiatrici di Luca Daffrea Uomini e Donne. La ragazza ha colpito il tronista, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, per la sua semplicità. Per il momento, il ragazzo ha deciso di iniziare a conoscere in esterno lei e l'aria, che l'hanno maggiormente colpito. Alessandra è una delle corteggiatrici di Luca Daffrea Uomini e Donne. Ha 28 anni ed è di Milano. Città che però negli ultimi anni non ha vissuto tanto perché è impegnata a viaggiare per il mondo. Soprattutto in Centro America e Indonesia, come si nota dal suo profilo Instagram. Sempre dai suoi scatti, appare una ragazza semplice, a mente dei viaggi e in particolare del surf. Molte infatti sono le foto in cui cavalca le onde sulla sua tavola. All'interno del programma si è mostrata fin da subito emozionata. Un po' insicura e timida, ma intenzionata a conoscere il nuovo tronista. Tra le numerose corteggiatrici interessate, Luca Daffrea ha deciso di portare in esterno il l'aria e Alessandra. Con quest'ultima è stata un'uscita all'insegna della semplicità, in cui l'emozione non è mancata. La ragazza era piuttosto emozionata, ma il tronista l'ha messa fin da subito a suo agio e entrambi hanno iniziato a raccontare qualcosa di se stessi. Alessandra era insicura e temeva la competizione con le altre corteggiatrici. Lui ha raccontato, quello che mi ha colpito di lei è la semplicità. La purezza e la bellezza. Anche molto timida, ma questo non vuol dire che non abbia carattere. I due si sono rivisti per una seconda esterna e la conoscenza sembra procedere per il verso giusto. Grazie. 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 Grazie.